belle è le settimane bianche ma poi quando si torna a casa c'è sempre da lavorare e via che facciamo stand biancheria le macchine stendi biancheria macchine poi adesso tutta questa roba qui dove me la metto guardiamoci le previsioni ma previsioni per sabato 24 febbraio al nord in lombardia al mattino cieli nuvolosi su tutti i settori con piogge acquazzoni sparsi più intensi al nord ovest al pomeriggio ancora instabile al nord ovest con piogge sparse sul resto d'italia al mattino cieli generalmente nuvolosi associati a piogge rovesci sparsi specie sul terreno al pomeriggio piogge temporali anche intensi lungo il terreno temperature minime massime stazionarie o in aumento beh insomma queste previsioni non sono proprio fantastiche mi sa che con i cali delle temperature queste cose meglio se me le tengo un attimo in un'altra portata di mano magari arriva qualche fiocco di neve e ci serviranno sicuramente i pai ma ricordatevi comunque che anche se ci sono i fiocchi di neve su cron tv splende sempre il sole e voi dovete stare sereni